Ciao a tutti, in questo video parliamo del nuovo notebook Asus Vivobook Pro 15 pollici OLED. Questo portatile è stato presentato proprio all'inizio del 2024 durante il CIS di Las Vegas ed è molto interessante perché ha tutto un insieme di caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per i creator di vario tipo, quindi fotografi, videomaker, per chi lavora con la grafica, ma allo stesso tempo ha un prezzo molto interessante. Partiamo subito dalle caratteristiche tecniche principali. Stiamo parlando di un computer portatile 15 pollici, 15,6 in particolare, del peso di 1,8 kg con all'interno un nuovo processore Intel U7, ossia il processore Ultra 7 della nuova generazione. Questa versione arriva con una RAM da 24 GB DDR5, quindi un taglio interessante superiore al 16 GB, ma comunque non arrivando a un taglio superiore permette di tenere il prezzo all'interno di un reggio un pochettino più contenuto rispetto ad altri portatili. L'altra cosa interessante è la scheda grafica. Infatti abbiamo un'NVIDIA GeForce RTX 4060, quindi con 8 GB di RAM DDR6, quindi una scheda grafica che per chi lavora comincia a essere una soluzione piuttosto interessante e veloce. Per quanto riguarda lo schermo, abbiamo un pannello OLED 3K, quindi una risoluzione nello specifico di 2880 x 1620, 16 noni e con un refresh rate di 120 Hz. È una soluzione anche qui interessante perché su un portatile sicuramente non abbiamo bisogno di risoluzioni altissime, soprattutto su un 15 pollici, ma è comunque superiore a un Full HD, quindi ci dà un'ottima qualità, soprattutto è molto importante il fatto che sia un OLED. Una delle tante cose che fa capire che questo computer è studiato per chi lavora, diciamo in generale, con la creatività, quindi con la fotografia, con il video, con la grafica, è anche il fatto che il pannello supporta al 100% dello spazio colore sRGB, Adobe RGB, ma soprattutto dello standard DCI-P3. Quindi da questo punto di vista copre tutti i vari casi di utilizzo. È un pannello lucido, quindi questa è una considerazione da fare nel caso lavoriate molto in ambiente molto illuminato o all'esterno. È anche molto luminoso. Altra cosa molto interessante e molto utile soprattutto perché lavora con determinati software, come possono essere i software di modellazione 3D come Blender o Unreal Engine, è proprio la presenza del tasterino numerico, perché questi software utilizzano tantissimo il tasterino numerico e quando si lavora spesso sui portatili si fa molta fatica a utilizzarli alla stessa velocità. E il fatto che ci sia a disposizione un tasterino numerico su un 15 pollici, per quanto mi riguarda, è sicuramente una cosa molto positiva. La tastiera comunque si utilizza molto bene, è abbastanza silenziosa, ovviamente c'è la retroilluminazione regolabile e anche dal punto di vista dell'audio si sente veramente molto bene, anche con dei bassi molto intensi. Un altro elemento che per quanto mi riguarda rende evidente il fatto che questo computer è stato pensato per chi lavora con, diciamo in generale, contenuti digitali, sono le varie porte, quindi le varie uscite. In particolare abbiamo un connettore USB 3.2 Gen 2, quindi tipo C, che ovviamente supporta l'alimentazione e anche la condivisione del display. Poi abbiamo un'altra porta, sempre di connettore tipo C, ma che è un Thunderbolt 4, sempre con supporto, power delivery e display. Ma abbiamo altre tante porte USB A, quindi ne abbiamo due, una su un lato e una sull'altro. E anche questa è una scelta interessante, perché comunque nel totale abbiamo ben quattro, diciamo, ingressi o uscite USB di vario tipo, che ovviamente quando si lavora con hard disk esterni, monitor esterni e vari tipi di dispositivi sono particolarmente utili. L'altra cosa che rende queste quattro porte ancora più utilizzabili è il fatto che l'alimentazione comunque è separata, quindi abbiamo un connettore apposito per l'alimentazione. L'alimentatore non è piccolissimo, ma non è neanche tra, diciamo, quelli più grandi, quindi diciamo che è una via di mezzo. La scelta di utilizzare un connettore apposito può sembrare qualcosa di scomodo, perché potremmo utilizzare appunto l'ingresso USB-C, che possiamo condividere anche con altri dispositivi e quindi possiamo già averlo dietro, però effettivamente utilizzare l'alimentatore in questo caso ci permette una ricarica molto più rapida. Infatti stiamo parlando di un 200 Watt. Per finire le porte abbiamo un ingresso microfono e uscita cuffie in combo, quindi un unico ingresso e uscita per entrambe le cose. Abbiamo un lettore di schede SD 4.0 e questa cosa è per me fondamentale, lavorando molto in mobilità con foto, video, eccetera. Il fatto di non doversi portare dietro dei convertitori e degli adattatori, perché di fatto abbiamo l'SD standard grande e più tutti i vari tipi di USB e Thunderbolt disponibili, è veramente una comodità che in un portatile da lavoro per me è fondamentale. Ovviamente abbiamo l'uscita HDMI e altra cosa molto interessante, abbiamo anche un connettore Ethernet Gigabit, quindi di fatto una presa di rete che possiamo utilizzare senza ulteriori adattatori. Naturalmente abbiamo la webcam che ha anche lo sportellino per la privacy, quindi per la chiusura dell'obiettivo quando non lo stiamo utilizzando. Ci sono tutta una serie poi di impostazioni che si possono mettere anche tramite l'apposita app preinstallata, Asus, per il risparmio energetico, ce ne sono veramente tante. La batteria chiaramente dura diverse ore, ma sulla batteria dipende sempre un po' dall'uso che ne facciamo, quindi diciamo che se utilizzate in maniera normale il portatile per la scrittura, la navigazione, la visione di foto, video, eccetera, dura parecchie ore, devo ancora testarla per quanto riguarda l'utilizzo a batteria tramite software più potenti, come potrebbe essere Premiere, un software di modellazione, eccetera, dove chiaramente lì le prestazioni vanno a consumare maggiormente la batteria. Una cosa che può interessare oppure no a seconda del tipo di utilizzo che farete di questo computer è la presenza all'interno del touchpad di un cursore dedicato alle applicazioni creative. In realtà poi si può utilizzare anche in altri contesti perché è programmabile ed è appunto il dial pad di Asus. Di fatto abbiamo quest'area circolare che noi possiamo programmare per utilizzarla ad esempio all'interno di Photoshop per cambiare la grandezza dei pennelli. Faccio un esempio. Oppure all'interno di Premiere per associarlo allo zoom della timeline o ad altre funzioni. Appunto all'interno dell'app Asus possiamo poi associare delle funzioni diverse o anche in software che non sono di default già programmati. È una funzione interessante, diciamo che non fa la differenza sull'acquisto del computer o meno però comunque è disattivabile se non ci interessa quindi non dà fastidio poi nell'utilizzo del pad che è comunque molto ampio e molto fluido e funziona molto bene. Per quanto riguarda le prestazioni appunto testandolo con dei software che utilizzo normalmente come può essere Premiere, Blender ma anche software più pesanti come Unreal Engine come portatile risponde molto bene ad esempio abbiamo fatto una prova di montaggio 4K bitrate di 150 megabit tra l'altro tramite un hard disk esterno connesso tramite USB-C e il playback è assolutamente fluido non crea problemi anche aggiungendoci vari layer di color correction, effetti eccetera e anche l'esportazione è molto rapida quindi sicuramente la scheda grafica in questo caso unitamente anche comunque alla RAM presente fanno sì che per anche lavori abbastanza intensi per un portatile funzioni tutto molto bene anche dal punto di vista appunto dell'utilizzo ad esempio di software 3D possiamo andare ad esempio in Blender real time con i V senza assolutamente nessun problema ma chiaramente quando si tratta poi di un rendering vero e proprio i tempi si allungano ma comunque all'interno di range assolutamente utilizzabili soprattutto per un portatile abbiamo anche fatto una prova di qualcosa di più pesante non abbiamo provato del gaming in quanto per quanto ci riguarda non ci serve per quello ma abbiamo provato una cosa che comunque è molto simile e soprattutto è molto intensa dal punto di vista dell'utilizzo della memoria ed è anche del processore oltre che della scheda grafica che è Unreal Engine tra l'altro utilizzato anche su un progetto VR vedendo il progetto collegando il visore in real time e abbiamo fatto anche una prova con SteamVR quindi a fruire di un contenuto in questo caso non un gioco ma un'applicazione quella di Google Earth in realtà virtuale e non ci sono stati particolari problemi anche di fluidità quindi permette comunque di lavorare bene anche su progetti pesanti in mobilità questa era una rapida recensione oltre che scheda tecnica di utilizzo dopo un paio di settimane è appunto un computer appena uscito lanciato da poco e quindi se ci saranno ulteriori aggiornamenti li caricheremo all'interno di questo canale fateci sapere come al solito se il video vi è stato utile e noi ci vediamo alla prossima recensione e noi ci vediamo alla prossima